no bella ragazzi sono io, ben ritrovati oggi sul mio canale ragazzi e oggi siamo qui in live sempre su mv2 in un tentativo di carica nucleare non penso di riuscirci in questa mappa in questa mappa praticamente è tutta chiusa perciò gli amici si accampano bene dentro questi begli edifici perciò questo qua c'è già anche fisch che da quanto tempo non vedevo più il coso quello che ti permetteva di ricaricarti le munizioni non pensavo che non l'avevi sicuro c'è una lanza granata uuuu un amber lamberissimo ho fatto un un amber in salto ragazzi non so se l'avete visto non sento uno qui è destra ah l'abbè guai 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 buona a Dai dai, ci facciamo Dio, lo scancho di qua Ci ammazza me, così vieni a passare fuori e mi girano i coglioni Allora c'è il mio sciolto Andiamo a andare a guidare Come non detto, eh Approvvigionamenti per il nemico in arrivo Vieni la mano, vieni la mano Vieni la mano Vieni la mano Vieni la mano Bah, ce la faremo ragazzi Ce la faremo arrivare alla nuke Lo sapremo solo nella prossima puntata Strade, strade, strade Dai, 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 dai Che cosa possiamo fare? Dai, guardali qua Guardali qua Oh mio Dio, mi ricredo su questa mappa ragazzi Mi ricredo su questa mappa Ho fatto praticamente una strada assurda qui dentro Guardali, guardali tutti lì Tutti lì, tutti lì Guardali tutti che escono, nessuno si calcola Oh mio Dio 35-0 Senza nucleare Oh mio Dio Ehi, ehi, ehi C'è, c'è, c'è cazzo Cazzo, ma c'è così però no Mi sembra stravenza Mio Dio No, mi è mai successo una cosa Andiamo a vedere se riesco a mantenere Diciamo Uh, dai, lo esganciamo Oh, eh Dio, si ammazzavo anche quello Vaco cane Ragazzi, è stata una carica nucleare epica questa qua E ho anche detto che non ci sarei riuscito in questa cazzo di mappa Che non pensavo veramente di fare una cosa del genere Mio Dio 42 45-2 E c'ho anche gli scarsoni insieme Mica male ragazzi Qua un like dovete lasciarmelo di fisso No, sto scherzando Comunque ragazzi, se la partita vi è piaciuta E se volete vedere magari altre partite del genere Ragazzi, lasciate un like E un commento qui sotto E veramente sempre ben accetto Il vostro supporto E niente Noi ci vi chiamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 ciao